Bon pomeriggio! Io sono un medico e mi occupo di nefrologia, le malattie dei reni. Magari vediamo insieme più avanti anche questo tema. Però volevo raccontarvi e iniziare sul perché io ho voluto fare il medico. Perché per me era importante riuscire, fin da piccolo, a riuscire a comprendere le varie sfaccettature della vita. Sì, la parte organica, le malattie, ma anche quella psicologica, gli aspetti emozionali, le culture. Arrivo da una famiglia in cui i miei nonni avevano fatto la guerra e mi hanno raccontato molto di questi aspetti. Quindi riuscire a comprendere come sia possibile che l'uomo arrivasse a certe situazioni per me è sempre stata una cosa importante. E quindi io la guerra non l'ho vissuta qua. Io ho pensato che fosse utile fare delle esperienze in paesi in via di sviluppo, in paesi in guerra, per comprendere le culture e le religioni locali, come l'uomo interagisce l'un l'altro. perché la dinamica dei gruppi è qualcosa che condiziona la società, ovviamente. No. Questa slide, non sono io quello nell'immagine, avrei troppi capelli, però rappresenta il percorso che io ho dentro di me come percezione necessario per comprendere l'indole umano. Un percorso difficile, eh? Cupo, umbroso, vero? Però, mio nonno mi diceva sempre, il nonno che ha fatto la guerra, quando dovrai fare una scelta, scegli sempre la strada più difficile. Mai quella più facile. E per scegliere una strada difficile come questa scalinata, ci vuole coraggio, ovviamente, ma ci vuole anche curiosità, determinazione, ma anche una certa dose di incoscienza. e quindi, per raggiungere quell'obiettivo, magari insieme adesso, cerchiamo di capire alcuni passaggi. Qua siamo a Jakarta, e una manifestazione pacifica si trasforma incomprensibilmente in una rissa collettiva. I gruppi sono complessi, le dinamiche delle persone all'interno dei gruppi sono complessi e creano delle situazioni imprevedibili e spesso non replicabili. E soprattutto, le dinamiche e le azioni dei singoli membri all'interno del gruppo non corrispondono quasi mai alle azioni e alla dinamica del gruppo. Ognuno di noi, da solo, si comporterebbe in maniera diversa rispetto a come si comporta in gruppo, e certe volte in maniera opposta a quello che si comporta il gruppo. E questo crea una difficoltà enorme nell'aspetto scientifico che necessita la replicabilità e quindi riusciamo a comprendere completamente quali siano le dinamiche dei gruppi. Ci sono stati alcuni esperimenti sociali? Questo è un esperimento di Ash. Qual è la linea più lunga? La? Quattro, ovviamente. Bene, se io prendo questa immagine, la metto in una classe e addestro tutti i partecipanti alla classe di dire che la linea più lunga è la seconda, la terza, la seconda, e poi chiamo una persona ignara vittima dell'esperimento e cominciamo a chiedere a tutti quanti qual è la linea più lunga e tutti rispondono ovviamente la 2 e arriva il suo turno. Lui risponde, nel 75% delle volte risponde la 2. Quindi solo il 25% di voi, 25 persone su 100, avrebbero il coraggio di uscire dalle dinamiche del gruppo. Sto uscendo dal centro rosso. uscire dalle dinamiche del gruppo. Perché questo? Perché noi abbiamo bisogno di essere accettati dal gruppo, perché accettati dal gruppo vuol dire essere protetti e abbiamo bisogno di protezione, di una zona di comfort e quindi nel 75% delle volte scegliamo la strada più facile, non quella più difficile, come mi diceva mio nonno. E questo cosa ci comporta? ci comporta il fatto che non siamo più liberi di pensare che non riusciamo ad emanciparci. Tutti parliamo di emancipazione femminile, eccetera, eccetera, emancipazione delle persone. Emancipazione vuol dire essere liberi dalle costrizioni di pensiero. Il 75% di noi non è emancipato. Questo è il problema. E quindi cosa succede? Diventiamo vittime del potere, delle autorità, dei media e diventiamo pedine. Pedine, quindi non più attori della nostra vita e quindi frustrati. Perché chi fa una vita che non è la propria diventa frustrato, non è contento, insoddisfatto della vita. E questo crea un enorme problema nella società e quindi nei gruppi. E allora, facendo tutte queste mie sperimentazioni mentali e anche sociali, ho cercato di pensare qual è il luogo migliore per provare a vedere se ci sono delle strade per rendere noi stessi più gratificati da quello che facciamo. E nell'ambiente lavorativo è il posto migliore. noi basiamo tutta la nostra vita sostanzialmente nel lavoro, sì, famiglia e lavoro, però se guardiamo le ore siamo più al lavoro che in famiglia. E quindi, nelle mie analisi, ho cercato di capire quali fossero i pilastri, le dinamiche migliori per raggiungere uno stato di gratificazione nell'ambito lavorativo. E mi sono imbattuto in questo impronunciabile, vero? Csikszentmihalyi è il nome di uno psicologo. Questo. È il nome di uno psicologo ed è uno dei più importanti psicologi nell'ambito della felicità. È ungherese, naturalizzato americano, e ha teorizzato lo stato di flow, cioè il coinvolgimento emotivo massimale, la trance agonistica. Tutti voi, in qualche maniera, qualche volta nella vostra vita siete stati immersi in qualche cosa, tanto che nessuna cosa vi poteva distrarre. Sì o no? Avrete avuto qualche volta un'esperienza di questo tipo? Magari nei giochi? Quella è la trance agonistica, il momento in cui tutti noi dovremmo arrivare per essere imbattibili. Ma non solo, per far coincidere l'obiettivo personale con quello del gruppo. perché noi raggiungiamo lo stato di flow quando il nostro gruppo, grazie a noi, raggiunge la massima performance. Quindi dobbiamo fare in modo che il nostro obiettivo sia lo stesso del gruppo. E per far questo ci sono quattro pilastri. Far questo vuol dire arrivare al flow che in questo caso è rappresentato dal fiore di lotto. Il fiore di lotto lo conoscete? L'avete mai visto? Un fiore splendido, bellissimo, che nasce sugli stagni, sulle pozze putrede, sull'acqua stagnante. È la rappresentazione ideale dell'essere umano che fa le cose più orrende al mondo, distrugge tutto quello che può trovare e poi crea le sinfonie di Beethoven, crea l'arte più incredibile, non solo, la tecnologia che ci prende di viaggiare nello spazio. Però contemporaneamente tutto questo nasce su una situazione tremenda, se ci pensate. Guerre, interessi personali, violazione dei diritti umani. Bene, il primo pilastro è il pilastro TIL. TIL vuol dire colore verde acqua, la foglia del tè. Ed è stata teorizzata da Freddy Claloux. È un concetto di organizzazione aziendale in cui il meccanismo non è verticale, ma orizzontale. Non c'è un capo che comanda, ma un insieme di gruppetti di persone che decidono autonomamente alcuni passaggi per rendere al massimo la produzione e la qualità di vita interna all'azienda. Tanto che è paragonabile a un sistema quasi vivente in cui i gruppetti sono le cellule e il sistema aziendale TIL si muove non con un business plan e un obiettivo, ma si muove con la crescita di questi gruppi che poi portano all'obiettivo che magari è diverso da quello iniziale. Sembra una cosa utopica, vero? Pensate se è possibile? Michelin, Decathlon, Patagonia, Harley-Davidson, solo tutta organizzazione TIL. Le persone all'interno dell'organizzazione TIL nel vero sistema TIL addirittura scelgono lo stipendio a seconda di quanto hanno prodotto nel mese in cui corrisponde lo stipendio. Tanto sono responsabilizzati, tanto è diffusa la responsabilizzazione del sistema. Ma per essere veramente TIL bisogna saper comunicare, secondo pilastro. Comunicare vuol dire sì, ovviamente essere trasparenti, dirci tutto, comunicare gli obiettivi, no? ma non è solo questo. Esiste una teoria psicologica che è il sistema dell'enagramma, non so se l'avete mai sentito, in cui divide la tipologia delle persone in tre tipi diversi, istintuali, emotivi e razionali. Le persone all'interno di questi gruppi quando si parlano, nella stessa lingua ovviamente, non percepiscono esattamente le stesse sfumature e spesso nascono le incomprensioni. Se io dico io sono un istintuale, per me amare una persona vuol dire fare in modo di metterla vicino a me se ha un problema e di combattere insieme per risolvere il suo problema insieme a lei. Ok? Questo per me vuol dire amare. Per me è razionale. Amare vuol dire ti stimo, ma ti stimo talmente tanto per un emotivo invece è la spesso più romantico del fiore. Non è che le persone vogliono dire qualcosa di diverso, in fondo è la stessa cosa ma l'interpretazione è diversa. Bene, quindi se io conosco come soprattutto nei concetti astratti i tre, le tre personalità si parlano e si interpretano allora a questo punto io sono in grado di riuscire a comunicare molto meglio il sistema. E poi abbiamo le altre due due pilastri che sono anche loro hanno delle analogie fra di loro. Il primo è quello della leggerezza. Leggerezza non vuol dire superficialità. L'ha teorizzata Italo Calvino nell'elezione americana di Harvard. Leggerezza vuol dire che quando io vi ricordate la scalinata iniziale? Quando io devo cominciare a fare quella scalinata ombra rosa, tenebrosa, difficile, lunga, fatticosa, non posso partire con uno zaino completamente pieno perché arrivo al primo scalino e mi fermo. Leggerezza vuol dire che per qualsiasi percorso noi dobbiamo salire con uno zaino vuoto i primi scalini e poi pian piano abbiamo tutto il tempo di aggiungersi di ostacoli e complicazioni varie che normalmente arriveranno ma più in alto siamo e più siamo vicini allo stato di flù. Più in alto siamo siamo più vicini allo stato di flù e se siamo vicini allo stato di flù siamo imbattibili. Quando voi raggiungete lo stato di flù in qualsiasi situazione sia nessuno vi può battere. Ricordatevelo questo. Gamification l'avete sentito prima però è la metodologia migliore per imparare lo stato di flù. Nella vostra esperienza personale voi avrete avuto tante possibilità ma nel gioco tanto è vero che si chiama transagonistica inizialmente nel gioco raggiungete più facilmente lo stato di flù. Quindi il gioco serve per fare team building per conoscersi bene per avere tutta una serie di interazioni più vicine l'uno nell'altro nell'ambito lavorativo ma serve perché voi impariate cosa vuol dire transagonistica coinvolgimento massivo nel gioco lo raggiungete molto più facilmente. Io ho imparato lo stato di flù il gioco la transagonistica con la mia macchina. Questo è il quadrante della mia automobile e mi sono accorto che per anni mi sfidava e io non capivo che stavo giocando. Questa linea orizzontale identifica la parte bianca e il mio consumo io accelero l'acceleratore e aumenta la parte bianca. Il rombo è la media. Ogni volta che io accelero non devo superare quel rombo altrimenti la macchina comincia a friggervi. Fa dei rumorini strani bip bip eccetera eccetera ma il problema è che quella è una media e quindi meno io raggiungo quel rombo come vuole la mia macchina più quel rombo si sposta a sinistra e quindi mi crea il gioco sempre più difficile ovviamente e quindi aumenta la difficoltà e io ogni volta devo riuscire cioè arrivavo a un punto in cui tutti mi suonavano dietro perché non acceleravo più perché altrimenti non vincevo sulla macchina. Alla fine del gioco però io consumo 300-400 chilometri in meno appieno solo facendo giocando ogni volta con questo sistema. Bene perché vi sto raccontando tutta questa cosa? Perché tutta questa cosa che poi è teorizzata tutto sommato è stata messa in pratica in due aspetti uno la fondazione Auxilia in dieci anni si è diffusa in tutto il mondo e abbiamo fatto tutta una serie di attività umanitarie artistiche e culturali che adesso non vi sto a dire per mancanza di tempo poi ci sono due articoli di giornale il primo è una bambina soldato che noi abbiamo tolto durante la guerra civile dal carcere era una terrorista Tamil non so se voi conoscete le Tigri Tamil che cosa sono via dicendo e l'abbiamo portata a Udine a riparare a guarire su un braccio perso in battaglia e secondo sempre durante la guerra civile in Sri Lanka abbiamo liberato 180 bambini dal carcere minorile bambini che avevano 3, 4, 5, 6 anni quindi non si può dire che avessero commesso un reato queste attività sono avvenute grazie alla forza della negoziazione di auxilia ma imparata sul meccanismo dei quattro pilastri perché questo? perché negoziare vuol dire fare quello che voglio io alle vostre condizioni e quindi è molto simile al concetto di flu in cui l'obiettivo personale concise con l'obiettivo dell'obiettivo del gruppo diventiamo io il negoziatore e la persona che deve negoziare con me un tutt'uno e facciamo in modo che l'obiettivo mio corrisponda al suo questo è la negoziazione e questo invece è la rappresentazione dello stesso meccanismo messo inserito all'interno di un reparto ospedaliero il mio io sono responsabile di questo piccolo reparto all'ospedale di Civitale del Fiuli di nefrologia delle malattie del rene quindi ci riconduciamo al concetto di prima e nel giro di questo scusate questo è il momento in cui prendo in mano la questione e le prestazioni con lo stesso personale e con lo stesso budget il primo anno aumentano a 14.000 poi arriviamo a 23.461 praticamente più che raddoppiate in due anni poi ci stabilizziamo su questo livello probabilmente più di così non riusciamo a fare però è un grosso risultato soprattutto perché è un ambito pubblico dove non c'è la vendita diretta cioè non c'è il rapporto il feedback io vendo e quindi ho un feedback di questo tipo è un ambiente pubblico quindi tutta l'attività è dovuta e permessa da quei quattro pilastri concludo ho ancora 11 secondi concludo con questo slide c'è un bambino che guarda attraverso un pertugio e rappresenta un po' la nostra infanzia almeno sicuramente la mia io ero sempre curioso di entrare dentro i luoghi bui e questo vuol dire che in qualche maniera tutti noi dobbiamo mantenere una parte di incoscienza di curiosità di gioco e di leggerezza per poter raggiungere lo stato di flow ma soprattutto la strada difficile che noi è utile che prendiamo per la nostra crescita magari è anche molto bella e divertente grazie a tutti